Ciao, siamo entusiasti di annunciare che anche quest'anno Euracom parteciperà all'Innovation Beauty Lab, l'evento dedicato all'estetica e alla bellezza. Ti aspettiamo presso il nostro stand 18, padiglione C7, dove potrai scoprire in anteprima assoluta tutti i marchi internazionali più prestigiosi, dal make-up come Resistant by Australian Gold, alla cura della pelle di Repeshage, all'antirossore numero 1 Rosalic, alla naturalità di Baija, fino alle tecnologie brevettate Starvac. Inoltre, domenica 20 ottobre alle ore 14, cogli l'occasione per assistere alla mia live dal palco dell'Innovation Beauty Lab, dove presenterò la doppia meccanotrasduzione, ovvero il segreto contro l'invecchiamento. Esploreremo insieme i processi dell'invecchiamento, perché è importante mantenere una matrice extracellulare sana e come restituire vitalità e giovinezza alla pelle con il metodo innovativo dello stretching cellulare e dell'Iperpulse, tecnologie brevettate da Starvac. Io sono Maria Grazia Russo, Master Beauty Trainer di Euracom e vi aspetto a Rimini!